Le mura di Lucca nel segno del verde, dei fiori e delle piante per una manifestazione più ricca di sempre. La quindicesima edizione di Verde Mura prosegue con grande partecipazione da parte degli appassionati del giardinaggio e del vivere all'aria aperta. Un'occasione unica per scoprire piante, note, novità, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti in ogni settore del verde, attraverso conferenze, presentazioni editoriali e laboratori. Sono 170 gli espositori nazionali e stranieri dalla Svizzera, dalla Germania e dalla Slovenia, con vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l'orto, prodotti artigianali di eccellenza, tipici e di gastronomia. Quest'anno Verde Mura è dedicata al fiore simbolo, il tulipano, e alla mostra mercato è possibile ammirare, ancora per la giornata di domenica, una esposizione appositamente realizzata con decine di varietà diverse con il sotterraneo del baluardo San Regolo, che ospita una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi.